Abbiamo ritenuto prevalenti le esigenze investigative, non solo, ma innanzitutto quelle di tutela della salute pubblica e anche quelle delle singole persone che possono aver avuto contatti con lei. Riteniamo che ci siano ancora altre persone che non si sono presentate per paura o per vergogna, quindi rinnoviamo l'invito fatto l'altra volta a presentarsi qui da noi. Iole Marafini si è prostituita nella zona della stazione centrale di Pescara almeno fino allo scorso 3 di maggio, quando per una tentata rapina ai danni di un negozio gestito da cinesi è stata arrestata. La donna, 36enne, originaria di San Benedetto del Tronto, pluripregiudicata e tossicodipendente, è affetta da AIDS e da epatite C, ciò nonostante ha continuato a prostituirsi per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga. La squadra mobile della questura di Pescara, nell'ambito di una precedente indagine che ha debellato alcuni gruppi criminali albanesi e romeni dediti allo sfruttamento della prostituzione nella zona di Pescara Centro e della Pineta d'Annunziana, aveva individuato la donna e lanciato un appello affinché clienti o conoscenti si recassero in questura a sporgere denuncia. Appello che ha sortito l'effetto desiderato perché alla polizia è arrivato un ex fidanzato della donna, che l'ha riconosciuta e ha raccontato di aver avuto rapporti non protetti con lei perché ignare o del pericolo. Racconto che ha fatto scattare la custodia cautelare in carcere decisa dal GIP del Tribunale di Pescara, Elio Di Bongrazio, con l'accusa di tentate e lesioni gravissime, tentate perché l'uomo ora sta bene e al momento non ha contratto alcuna malattia. È una misura estrema quella della custodia cautelare in carcere che si è resa necessaria, visto il comportamento spregiudicato che questa persona ha tenuto negli ultimi tempi. Non c'è solo il discorso della prostituzione, sul quale attendiamo ancora riscontri di clienti che non si sono presentati in questura, ma si è presentato qui da noi l'ex convivente. Ma non c'è solo questo discorso della prostituzione, come dicevo, ma si è verificato anche un episodio molto grave. Nel corso di un furto lei ha opposto resistenza al proprietario che cercava di bloccarla e poi gli ha sputato in faccia minacciandolo che l'avrebbe infettato perché è portatrice di queste patologie.